Ma è sicuramente una vittoria che ci avvicina moltissimo al nostro obiettivo. Però oggi, prima di rispondere alle domande, lasciatemi elogiare veramente il gruppo, la squadra, ogni singolo calciatore, perché è l'ulteriore testimonianza che nelle difficoltà questo gruppo ha sempre alzato la testa. Avevamo tanti assenti, qualcuno che era appena recuperato, ma nonostante le difficoltà, questi sono ragazzi esemplari che non molano mai, anzi hanno fatto una prestazione eccezionale. Quindi oggi veramente non meriterei nemmeno di essere qua, ci sarebbero dovuti essere solamente loro per la prestazione che hanno fatto e per come riescono sempre ad affrontare ogni difficoltà. Abbiamo creato tanto, Bernardotto ha avuto anche la palla immediata per fare il 2-0 davanti al portiere, abbiamo fallito il 3-0, abbiamo creato molto. Siamo tornati a fare l'approccio alla partita, è stato veramente di grande personalità, di grande qualità tecnica, perché abbiamo messo la Carrarese nella loro area di rigore, negli ultimi 25 metri e facevano fatica a prendere la palla. Insomma oggi forse è arrivata quella vittoria, quella prestazione che ha unito con più qualità le entrambe le fasi di gioco. Siamo stati molto solidi e allo stesso tempo quando abbiamo attaccato siamo stati pericolosi. Quindi è questa la strada.